A Londra di che cosa si sta parlando? Ovviamente della possibilità ormai quasi risibile di chiudere questa Brexit entro il 31 di ottobre ma dall'altra parte anche del tema delle elezioni che sono in realtà l'altra grande scommessa che sta facendo in questi giorni il primo ministro inglese Boris Johnson. Onorevole Fitto, un'uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione Europea, il cosiddetto no deal. Si è capito che non conviene davvero a nessuno? Io penso che non convenga a nessuno. L'accordo sottoscritto allontana i sospetti e soprattutto allontana il rischio che il negoziatore dell'Unione Europea Barnier potesse essere tirato per la giacchetta da qualche governo, da qualcuno che puntava più di sponda con gli interlocutori dell'opposizione inglese a non fare questo accordo. Io penso che Johnson abbia dimostrato un'intelligenza politica nel sottoscrivere l'intesa facendo anche qualche piccolo passo indietro non semplice e quindi oggi ci troviamo di fronte auspicabilmente ad un accordo che non mi soffermerei molto su questi dettagli perché sono questioni oramai che riguardano più l'idea di far emergere chi arriva prima e chi arriva dopo chi decide e chi non decide. Io spero che ci sia una proroga tecnica nel momento in cui il governo inglese dovesse ottenere l'approvazione e la chiusura del suo iter parlamentare. A quel punto il Parlamento europeo e se è il caso il Consiglio si possono riunire tenendo conto però che il Consiglio sostanzialmente ha dato un via libera già nei giorni scorsi nell'ultimo Consiglio all'accordo Barnier quindi dovrebbe riunirsi perché cosa il Consiglio se dovessero esserci delle eventuali modifiche ma lì cambierebbe lo scenario o se c'è da discutere i tempi del rinvio e qui c'è però una questione più di puntiglio in Inghilterra non voglio dare la vinta a Johnson perché Johnson obiettivamente approvando l'intesa e ottenendo la Brexit ottiene una grande vittoria e questo rappresenta una questione di politica interna che rischia poi di riverberarsi anche sulla fronte europea.